Le migliori tisane contro i 13 disturbi quotidiani più comuni. La menta è una delle erbe migliori per trattare numerosi disturbi, aiuta, infatti, ad alleviare la congestione nasale o i sintomi della febbre e persino l'accumulo di gas intestinale. Scoprite quali sono le migliori tisane contro i leggeri disturbi quotidiani, come il mal di testa, i problemi di digestione, i sintomi dell'influenza, i dolori mestruali, l'insonnia, la mancanza di energie o l'ansia. Sono rimedi semplici, naturali e molto efficaci, per potenziare le naturali capacità curative dell'organismo, senza bisogno di assumere farmaci. Ad ogni problema la sua tisana 1. Mal di testa Il mal di testa è un disturbo piuttosto fastidioso che non dobbiamo cercare di sopportare, perché potrebbe essere dannoso per la salute. Se vogliamo fare a meno dei farmaci, possiamo ricorrere, prima di tutto. Ad una tisana a base di una, o varie, di queste piante, curcuma, questa radice possiede proprietà antinfiammatorie e analgesiche molto forti. Viola mammula Contiene acido salicilico, il composto analgesico dei certi farmaci come l'aspirina. Tarassaco Libera il sangue dalle tossine che provocano il mal di testa. Menta Allevia la congestione e abbassa la febbre. 2. Cattiva digestione Le migliori tisane digestive vengono elaborate con le seguenti piante medicinali. Menta È una delle migliori piante per favorire la digestione ed eliminare l'eccesso di gas intestinali. Zenzero Stimola i succhi gastrici e previene l'acidità di stomaco. Melissa Calma la tensione nervosa allo stomaco. Cumino In polvere o in semi, è ideale per eliminare i gas intestinali. 3. Nausea Per evitare la nausea, che sia da cinetosi, da gravidanza o causata da problemi di pressione, l'ideale è lo zenzero. Si tratta, infatti, di una delle radici migliori per alleviare questo disturbo, in quanto ha grandi proprietà digestive e stimolanti. Con lo zenzero si può preparare una tisana, calda o fredda, dolcificata a piacere con miele, da bere a piccoli sorsi. 4. Sintomi da raffreddore o influenza E primi sintomi di raffreddamento o dell'influenza, come febbre, tosse o catarro, possiamo preparare una tisana con le seguenti piante medicinali. Timo ed eucalipto, azione antisettica. Menta, azione antipiretica. Zenzero, favorisce la sudorazione e abbassa la febbre. Piantaggine, calma le vie respiratorie. Pepe di cayenna, un pizzico di questo peperoncino aiuta ad aprire i bronchi. Per dolcificare useremo il miele, considerato un antibiotico naturale. 5. Stitichezza Per combattere la stitichezza puntuale, possiamo ricorrere ad una tisana di senna, dalla potente azione lassativa. Se, però, la stitichezza è cronica, bisognerà evitare i lassativi perché, anche quando sono naturali come la senna, hanno un effetto irritante. Per dire addio per sempre alla stitichezza, prima di tutto dovremo scoprirne le cause. Invece, per migliorare il transito intestinale, potremmo bere tisane a base di tarassaco e semi di lino, dolcificate con miele d'acaccia. 6. Diarrea Per fermare la diarrea puntuale possiamo ricorrere a piante dalle proprietà astringenti, come, ad esempio, il tè verde o la tormentilla, dolcificati con miele di leccio. Per evitare di disidratarsi è fondamentale bere molta acqua. 7. Mal di gola Per il mal di gola ricorreremo a tisane che combinino le proprietà curative di diversi ingredienti. Zenzero Riscalda la gola Piantaggine Calma le vie respiratorie Curcuma Ha un'azione antinfiammatoria e analgesica Limone Azione antisettica Miele Azione antibiotica 8. Mancanza di vitalità Liperico e la menta Dolcificati con miele Sono la combinazione ideale per combattere la mancanza di forze. 9. Ansia, tensione o stress Per sciogliere la tensione Possiamo preparare una tisana a base di melissa, lavanda, basilico e scorza d'arancia, dolcificata con miele di lavanda. 10. Insonnia Per migliorare il sonno saranno di grande aiuto piante dall'effetto rilassante, come la passiflora, la valeriana o il tiglio. 11. Dolori mestruali Per i dolori mestruali, oltre a rivolgerci ad un medico se si tratta di sintomi ricorrenti, possiamo aiutarci con una tisana a base di salvia, finocchio, artemisia e camomilla. 12. Calo della libido Per aumentare la libido in modo naturale, niente di meglio che una tisana stimolante e afrodisiaca a base di zenzero, pepe, cannella, anice stellato e cardamomo, dolcificato con miele. Una vera delizia. 13. Gambe pesanti Per alleviare la fatica delle gambe, prepariamo una tisana che favorisca la circolazione, a base di rosmarino e tarassaco. Se le gambe, oltre che pesanti, sono anche gonfie, aggiungiamo dell'equiseto. Modo di assunzione Se vogliamo trattare un disturbo, berremo due o tre tisane al giorno, affinché facciano effetto rapidamente. Possiamo berne una tazza a digiuno, un'altra a metà mattinata e l'ultima nel pomeriggio. In alcuni casi, invece, bisognerà bere l'infuso in momento specifici, a seconda del disturbo da trattare, dopo pranzo per migliorare la digestione. Prima di andare a dormire per combattere l'insonnia. Queste tisane sono pensate per trattare disturbi puntuali e leggeri. Nei casi cronici o che persistono più di una settimana, sarà necessario rivolgersi ad un medico.